Nuova classe A è la rivoluzione Mercedes tra le compatte, più sportiva, più spaziosa, ma soprattutto più tecnologica che mai. Le sue linee pulite e sportive si abbinano perfettamente al design grintoso immediatamente rivelato dal frontale. L'equipaggiamento di serie si presenta già molto ricco, includendo tra l'altro telecamera posteriore, Dynamic Select, display centrale con touchscreen, touchpad, clima automatico, i sistemi di assistenza alla frenata attivo e antisbandamento attivo, mentre i fari LED high performance su richiesta permettono una migliore illuminazione e una maggiore sicurezza di notte. Classe A è stata la prima ad essere dotata del sistema multimediale MBUX, che ha segnato l'inizio di una nuova era della connettività firmata Mercedes Me. La capacità di apprendimento, grazie all'intelligenza artificiale e l'alto livello di personalizzazione, permettono di annullare qualsiasi barriera tra auto, guidatore e passeggeri. I modi di interagire sono davvero tanti. Il touchscreen, il touchpad e i pulsanti touch control al volante. E se non fosse abbastanza, provate a dire «Ehi, Mercedes!» La tecnologia avanzata si sposa con un design degli interni all'avanguardia. Il doppio display ad alta risoluzione sembra essere sospeso sulla plancia. A richiesta è inoltre disponibile la visualizzazione della navigazione con la tecnologia della realtà aumentata MBUX. Oltre ad essere comodo grazie all'inedita spaziosità, con il Mercedes-Benz Intelligent Drive ogni viaggio è anche sicuro e speciale e può essere personalizzato con tanti equipaggiamenti. Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic permette di mantenere automaticamente la distanza rispetto all'auto che precede, mentre il Pre-Safe riduce considerevolmente il rischio di incidenti. In aggiunta è disponibile il sistema di rilevamento automatico dei segnali stradali e il Blind Spot Assist. Verso la guida senza conducente. Il pacchetto assistenza alla guida è un concentrato di sistemi che aiutano a correggere la velocità, a sterzare, a cambiare corsia e a evitare una collisione. Ampia anche la scelta di motorizzazioni, dai nuovi propulsori benzina 4 cilindri al nuovo motore diesel, ai motori AMG A35, A45, A45S ed EQ Power. L'ibrido plug-in in particolare coniuga il dinamismo e l'efficienza di un motore elettrico con l'autonomia di un motore a combustione interna, raggiungendo una potenza complessiva di 218 CV e una coppia massima di 450 Nm. Il motore elettrico fornisce potenza aggiuntiva in accelerazione, oppure può alimentare l'auto in città fino a 77 km, permettendo di effettuare gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Classe A, giovane, sportiva e tecnologica. Just like you.